se volete acquistare crediti fifa a basso prezzo andate su fifaultimatingcoins.com e con il codice GRAN avrete il 5% di sconto bella ragazzi siamo in grana e niente finalmente una squadra che non è ultra buggata ma perderemo probabilmente perderemo comunque non fate caso ai miei capelli non fate caso che sono stati sempre uguali ma ragazzi siamo registrando i video ovviamente prima di partire per capitano perché poi partiamo e vi programmiamo per quando staremo fuori quindi così ce l'avete sempre quindi sono stati uguali pensate io mi sono forzato ai 4 e mezzo stamattina e sono ancora ancora registrando vabbè comunque dai infatti è iniziata la partita e non andava troppo avanti però fermate e non capisco mi fiume da me il tempo poi perdo il tempo io non va noia tutto il resto è noia porca la troia spaccia 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 dalla su ma cazzo dalla su che non è andato giù se non è andato giù se non è andato giù sono stato sono stato passato giugno vai tu al gol per capisciare la parola con il tuo segno del lavoro se grande travano ho visto ho visto stai tranquillo non è vero non è possibile però questo non è possibile ci ha detto come noi non vale così è un bug ah dicolo che si dice mamma mia come un golle ragazzi come un golle ma perché la passi qua me non l'ho passata là è la seconda volta cazzo capito eh caso perché a te te fai stop fatti bene a me no sto testa di cazzo dai non è possibile ma dicolo che se non le faceva stop non l'ha mai fatta come fa appara pure questa non l'ha mai fatta mai mai in vita sua farlo dai 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 mamma mia che un occhiettino sullo Paolo ah ma come fanculo come fa a passare no no comunque sta ma la spiega scusa eh ma sei appena ripartito lui stava in corsa ma è normale che passa cioè è normale proprio in logica con questa da spiega te lo spiegata sono così che hai fatto una cazzata oh non per cazzo eh madonna mia madonna mia cioè che cristo non mette x sto testa di cazzo oddio oh hai chiesto tipo cioè di fatela spiegata questa cosa e lei è per cazzo se è buono ah vedi che è così se è magico dammela dammela ti prego dammela ti prego dammela ti prego segniamo non te la do è inutile noia gli fa morire subito eh quello se sto cegare fa sto cegare no perché 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 ce l'aveva davanti perché ce l'aveva davanti non devi parlare cazzo non devi parlare con due o davanti per tre cazzo che ha sti collo così a palombella cioè porco cane no vabbè per fallo cioè dovrebbe essere dai dai ma pure per loro no vabbè ma come sa io perché sempre si assaggia a metrata due metrata soprattutto a metrata due vabbè così dalla dalla vabbè mamma mia oh no buona ma è barato io vaffan dai mi è rimasto per te non so pure questa andata no per lei manco voi nostri fai zitto eh cosa fa vero sei rotto in moto eh c'è come tre ois guarda me sui passi là oh no no sa davidare se davvero ois calcola che sa davvero se stava un porta perchè ne vedi voi cose no non ho capito visto quello lontano passaggio dai fa passaggio normale bello bello buon 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 bene tantesimo tre avuto bene così va bene così e ci va in strada che cazzo ma ha 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 messiere tuo ho capito 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 gol 2 può essere anche il gol direttamente olle posso festeggiare posso festeggiare ma ho capito ti sconnesse ah è vero cioè no non festeggi finchè non c'è la vittoria dai guarda quello che sei rotto posso festeggiare no cioè questo ha segnato perché uno attende un gioco che sei rotto io ho la forma visibile per sta partita sulla prima non parte che devo cura due persone per coglioni ho lì e benji mi campiono insieme piscine che non dire che fai così non è colpa tua colpa di quanto la stessa difficile no perchè l'ho girato veramente aspetta 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 al menù al menù puoi festeggiare loro festeggiano già in comunque ragazzi questa parte l'abbiamo vinta dai è così ah comunque vada l'abbiamo vinta vediamo un attimo la classifica no allora vediamo un attimo la classifica nooo ok si può festeggiare si può festeggiare allora questa è la classifica yes mancano quattro partite dobbiamo fare due vittorie in quattro partite si se ne vogliamo fare tre così tanto più anche tre così arriviamo anche al titolo dai eh dai eh bella musica 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 musica